farei delle scelte diverse anche se forse quest'anno è stato il primo francese a Dio di Francia no? si assolutamente intanto arriva Gutierrez all'intermedio al primo intermedio anche gli atleti del terzo blocco stanno arrivando al primo intermedio e possiamo così vedere il passaggio di Gutierrez è secondo a 12 secondi da Bradley Wiggins e beh Wiggins è come sempre quando i corridori corrono in casa sono forti poi questo è un cronomen per cui è abbastanza normale che faccia bene José Ivana Gutierrez Palacios sta disputando una splendida cronometro individuale per il momento è davanti a tutti a metà percorso allora al primo intermedio aveva un distacco tutto sommato abbastanza sensibile per rintrugare 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 senza correre prima una volta per esempio anche il cronometro ha provato e vedi Gutierrez 38 secondi per Gutierrez al terzo rilevamento cronometrico intermedio per cui quello che abbiamo visto ci sono state anche parecchie cadute per essere l'ultima tappa della Uelta quindi dove già le posizioni sono ben determinate io credo che bisogna raccorrere con attenzione e non lasciare spazio a fughe di molti minuti sta arrivando Gutierrez Gutierrez un tempo fantastico 53 58 e 26 l'argentino signori è andato forte cioè plaza al primo intermedio è dietro all'argentino medici questo ragazzo secondo me trova un contratto in qualche squadra europeo non lo escluderei certo è andato forte ma sai non è giovanissimo avesse 20 anni lo capisco 23 24 mi sembra che ne ha 30 nulla di eccezionale anche Vinocuro ha fatto un bellissimo tempo è certo che ha fatto un buon tempo terzo tempo per Alexander Vinocuro va 18 secondi dal leader provvisorio della corsa Bradley Wiggins a chilometro 10 ma ricordometri vediamo Cancellara adesso che dovrebbe essere al secondo intermedio allora Wiggins 26 e 44 26 e 35 a 7 anche lui Pistard 17 secondi intanto di ritardo per Rogers l'ultimo a transitare alla primo intermedio allora andiamo a vedere la classifica definitiva al chilometro 10.5 poi lascio che Franco Cribiori completi il suo pensiero Bradley Wiggins al secondo passaggio quindi dopo 21 chilometri e 900 metri a metà percorso lo spagnolo sta per transitare sulla linea del traguardo lo fa ora e il suo tempo è il quarto a 22 secondi dalla connazionale Gutierrez è in recupero Plaza bene così è andato forte anche lui certo e quindi sono adesso il tempo è effettivo perché Gutierrez a quel punto 4 voce d'acqua proprio a fortuna è asciutto non c'è problema si diciamo nelle discese tecniche soprattutto diventa pericoloso perché è una bici troppo rigida chiaramente a minore tenuta di strada e vediamo il tempo di Alexander Vinokurov e dovrebbe essere vicino a Kashevskine e sono vicini due sì Vinokurov leggermente meglio è quinto per poco 29 secondi di ritardo da Van Gutierrez Palacios cancellara anche lui è lì vicino a metà percorso a 7 secondi di ritardo da Gutierrez dovrebbero essere questi tre atleti a giocarsi il titolo mondiale a cronometro vediamo Michael Rodgers impegnatissimo ancora mi sembra ancora brillante ancora agile la sua azione la sua pedalata si si sta pedalando molto bene però non a recuperarsi forse qualcosina aveva 5 secondi di ritardo vediamo siamo lì è ancora uguale più o meno sui tempi di cancellara ha perso qualcosina ha perso qualcosina è sullo stesso tempo praticamente di cancellara stesso identico tempo al centesimo incredibile 7 secondi 85 cancellara e Rodgers sono a 7 secondi e 8 decimi da Gutierrez hanno il vantaggio di conoscere il tempo dello spagnolo che può essere un vantaggio qua e anche se credo stiano dando già tutto sì per uno specialista in particolare è sicuramente un vantaggio però l'altro sappiamo già che è andato forte fino all'arrivo e questi devono tenere Rodgers ci ha abituati a finali molto belli vediamo questo cancellara 9 secondi di distacco per cancellara alla terzo intermedio quindi riesce a fare queste velocità vuol dire che sta veramente molto bene si è preparato molto bene il suo ottimismo stavolta è premiato era vero era giusto e beh correrà in casa i prossimi mondiali Rodgers se dovesse andare male oggi no i prossimi no nel 2008 chiedo scusa volevo legare la pedalata di Rodgers alla notizia una delle notizie importanti che abbiamo dato oggi in apertura di telecronaca cioè l'assegnazione dei mondiali del 2008 a Varese e Rodgers abita lì vicino a Varese quindi potrebbe continuare almeno fino al 2008 per provare a vincere in campo anche Lugano è lì Mendrizio è lì 2009 comunque Cancellara sta pedalando veramente molto forte qua in discesa però gira le gambe in un modo incredibile presumo che abbia il massimo rapporto per cui andrà a 80 all'ora eh sì qui siamo in un tratto favorevole secondo me a Cancellara che è un passista da lunghi rapporti che ha una potenza incredibile Fabian Cancellara un ragazzo ancora relativamente giovane sono contento di vederlo lì tra i protagonisti dopo una stagione non eccezionale per lui ha fatto una bella rubè ma praticamente 15 secondi da Rodgers e da Cancellara e di 22 da QTR però non credo che riesca a passare nessuno di questi tre perché mi sembravano forti e in spinta tutti e tre il primo è già arrivato sappiamo cosa ha fatto ma anche gli altri due stavano andando forte e ho l'impressione che perderà ancora qualcosa piuttosto che guadagnare 23 secondi sì tra poco tra l'altro dovrebbe arrivare ormai anche Bruseghin Vinokulov sì è sempre lì quinto probabilmente dovrebbe arrivare tra poco Marzio Bruseghin al traguardo e dovrebbe chiudere attorno alla decima posizione l'azzurro era sui tempi di Pinotti al precedente intermedio di ritardo per Marzio Bruseghin 55 e 46 ecco Cancellara Cancellara nel finale ha recuperato 12 centesimi una curva piuttosto che in uno scatto da qualche parte vediamo Rodgers ecco qua Michael Rodgers miglior tempo per 7 secondi al chilometro 33 Michael Rodgers 33 chilometri percorsi 7 secondi di vantaggio su Gutierrez è meglio così per Cancellara forse almeno non hai rimorso sì perché pochi centesimi sono veramente uno schiaffo se questo gli dà 10 secondi vabbè però attenzione perché poi c'era il finale in discesa e Cancellara era andato forte posso farviare tutti i primi tre nel giro anche di 3-4 secondi non mi meraviglia in carriera ha vinto 6 corse nella sua stagione migliore il 2003 Michael Rodgers e naturalmente i titoli mondiali a cronometro sono i più importanti risultati che ha ottenuto siamo al doppiaggio di Rick non si è messo neanche un attimo a ruota è stato proprio è stato di fianco non è non è non affiatato anche perché sa che ha poco vantaggio e deve andare dritto non può non può risparmiarsi deve spingere a tutto fino all'arrivo riesce a saltare vedete Denis Menciov nel finale di questa tappa andiamo a vedere l'arrivo di Ruben Plaza Molina dovrebbe essere in corsa per un terzo posto provvisorio Ruben Plaza salta Menciov proprio sul rettilineo d'arrivo in pratica ultima curva ampia verso sinistra la volata di Ruben Plaza 55.03 per Kashechkin è terzo Plaza 54.18 20 secondi di ritardo da Gutierrez è andato fuori dando la sua fatica una bella stagione per lui comunque la Liegi-Baston-Liegi quinto posto al tour con due vittorie di tappa sono risultati importanti per Alexander Vinokurov eccolo qua al traguardo lui che era stato terzo ai mondiali a cronometro di un anno fa va a chiudere con il quarto tempo provvisorio a quasi un minuto 56 secondi e 4 decimi Alexander Vinokurov un Alexander Vinokurov che quest'anno oltre alle corse che vi ho detto è riuscito a vincere è stato secondo al giro di Baviera ha vinto il campionato kazako su strada una tappa e il quinto posto nel giro del Delfinato della Svizzera nessun successo personale finora ma è davvero vicino forse alla terza affermazione consecutiva in un campionato del mondo a cronometro individuale questo atleta australiano di 25 anni 26 nel prossimo dicembre sta per essere il primo probabilmente forse atleta del mondo a vincere per tre volte il titolo mondiale a cronometro per di più consecutivamente ecco che ha accelerato ancora ancora la brillantezza di cambiare passo di accelerare di aumentare la cadenza delle pedalate nel finale di corsa Michael Rogers lanciatissimo uno dei tanti atleti che escono dal vivaio Mappei Franco Mappei che aveva davvero tanti giovani di grandi speranze molti di questi sono i corridori di oggi tra questi anche Rogers e molti altri e poteva forse continuare l'attività si Michael Rogers medaglia d'oro la Spagna battuta in casa da questo atleta australiano che taglia il traguardo e vince il terzo titolo mondiale un finale in crescendo 24 secondi quasi di vantaggio su José Ivan Gutierrez e Palacio su una media di 50 all'ora straordinario Michael Rogers ha fatto il finale come l'ha fatto l'anno scorso ha dato gas e si vedeva che faceva gli strappetti a tutta e poi scattava di nuovo per cui perché se avesse perso sarebbe stato peggio bene bebe bebe